Mordono, pungono, è quel fastidioso prurito! Non lasciare che gli insetti ti rovinino la giornata! Acquista la nuova Lamb Zapper, la lampada antinsetti portatile da usare dove vuoi! Lamb Zapper funziona a pile per alimentare la griglia elettrica schermata. Così quando fa buio, la sua intensa luce ultravioletta attrae ben 100 tipi diversi di insetti nella griglia di protezione, tra cui zanzare e mosche, fulminandoli all'istante con una potente scarica da 300 volt. Non c'è alcun bisogno di collegarla alla rete elettrica. Ora puoi goderti l'aria aperta senza dover utilizzare fastidiosi spray né candele o zampironi dall'odore sgradevole. Accendi il Lamb Zapper e fai sparire istantaneamente gli insetti fastidiosi. Ma non è tutto! Grazie a un pratico interruttore, l'Am Zapper si trasforma in una potente lanterna. Fantastico! È la maniera ideale per illuminare la strada quando cammini di notte o mentre ti godi un romantico picnic serare al parco. E con un semplice tocco dell'interruttore torni istantaneamente alla funzione anti-insetti. L'Am Zapper ti garantisce protezione su una vasta superficie ed essendo portatile puoi usarlo dove vuoi. Liberati degli insetti quando fai una grigliata, mentre sei in campeggio, mentre ti godi una sosta durante un viaggio in camper con la famiglia o quando vuoi un po' di relax all'aria aperta di sera. Che tu voglia utilizzarlo in un ambiente chiuso oppure all'aperto, l'Am Zapper è sicuro al 100%. Smetti di usare quegli spray nocivi. Non solo sono altamente infiammabili, ma possono anche rappresentare un rischio per la salute. E gli zampironi con quel fumo e quel cattivo odore non funzionano affatto. Acquista l'Am Zapper e tieni lontani gli insetti una volta per tutte. I dispositivi anti-insetti come questo costano almeno 50 euro e non sono portatili. E questa trappola per insetti costa circa 300 euro e necessita di gas propano. Dimentica spray, candele e zampironi. Ti soffocano con le loro insalazioni. Acquista subito l'Am Zapper.